Tra cui favole nel 2009, tua e di tutti nel 2014 e verso le stelle glaciali del 2020. Si occupa di critica letteraria, filosofia e traduzione. In particolare, dal 2015 è membro del Comitato Scientifico del Laboratorio di Filosofia e Cultura Macri ed è dal 2018 tra i curatori del progetto di poesia e arti visive Ultima. Ha un sito molto interessante che vi consiglio di guardare per approfondire tutti i suoi lavori. Questa sera ci presenterà un progetto in corso con una relazione dal titolo Al lavoro per un'antologia di poesia. Grazie Tommaso. Grazie a voi e buongiorno a tutti, anzi buonasera. Vi ringrazio davvero di questo invito e del lavoro in mane fin qui svolto nel coordinamento di questo bellissimo convegno espanso che, devo dire, rappresenta una miniera straordinaria. Quindi benvengano attività e operazioni di questo tipo. Questo mio intervento, lo dico subito, ha un intento molto umile, anche forse un po' ingenuo. Spero mi perdoniate. Prima di me in queste sessioni mi hanno preceduto ottimi studiosi che hanno portato alcuni risultati delle loro ricerche. Qui invece, insomma, io intendo proporvi più una riflessione, ieri ne parlavamo proprio con Giulia Bassi e Milonia Stefano, di carattere metodologico, di un progetto in fieri, una visione, direi, per molti aspetti ancora tutta da verificare e cui i risultati non sono forse così certi. Ecco, vorrei, come dire, proporvi in forma di racconto alcune riflessioni di metodo, insomma, su di un lavoro antologico, sulla poesia italiana che sto conducendo da alcuni anni. La materia su cui sorvolerò è ricchissima. Qui non potrò che appunto accennare ad alcune questioni che spero, ecco, nel dibattito insieme possano trovare interesse, corrispondenza e anche magari critica, insomma, e che mi aiutiate, insomma, a provare a capire i limiti e alcune possibilità che il mio sguardo non vede sull'opportunità di questa mia visione, insomma, progettuale. Allora, ma partiamo subito. Come vi dicevo, alcuni anni fa sono stato purtroppo invitato da un editore italiano a dare forma ad un lavoro antologico sulla poesia contemporanea che abbracciasse obbligatoriamente un arco cronologico esteso. 1971-2021, quindi i 50 anni, no? Gli ultimi 50 anni della letteratura poetica italiana, in lingua italiana. Fin da subito ho provato un po' ad allontanare da me questo amaro calice, e, scusiamo così, ero consapevole che un lavoro di questo tipo sarebbe stato non solo assai arduo, ma anche, diciamo la verità, un po' ingrato, perché ogni antologia porta con sé un ampio strascico di polemiche ed è anche una prerogativa, direi, di questi ultimi anni che i malumori non sorgano soltanto, come dire, come un tempo perché ogni scelta lascia qualcuno escluso, ecco, ma anche perché il panorama che si definisce contemporaneo, di poesia contemporanea, è talmente esploso, talmente moltiplicato e sfrangiato, che ogni tentativo di redderazione, insomma, e di costringere questa pluralità in una forma, in una misura, è andato incontro al fallimento, diciamoci la verità, oppure ad un effetto di usura rapidissima, qualcosa che ha avuto una vita precaria, per qualche tempo se ne è parlato, e poi però non si è rivelato uno strumento utile, no? di lavoro. Non è un caso che, appunto, uno degli ultimi lavori antologici autorevolmente riconosciuti da più parti, ecco, da più persone che lavorano e frequentano la poesia, certo non il solo, ma una delle più autorevoli, è quella del 2005, dal nome proprio Parola Plurale, no? Appunto, fin dal nome, il lavoro di quell'equip di critici rivendicava una condizione che non mi pare cambiata, ma semmai, appunto, con l'avvento dell'editoria digitale, di social network, ancora invece più moltiplicata esponenzialmente. Ecco, nella prefazione di quel lavoro prezioso del 2005, già si parlava apertamente come da molto tempo ormai, proprio forse dalla metà degli anni 70, ci si trovasse in una dimensione di convivenza caotica fra scritture assai diverse, che si trovavano a condividere, no? la dicitura, l'etichetta, diciamo così, di poesia, pur però ignorandosi bellamente, una con l'altra, è proprio un'espressione della prefazione. Si è parlato, lo ha fatto proprio Alfonso Berardinelli, di effetti di deriva, di astro esploso, ha fatto riferimento a questo proprio qualche giorno fa, Riccardo Frolloni, no? In un poster di un vostro incontro precedente. E si è riconosciuto, appunto, sempre più, che per quanto riguarda la poesia, il pubblico di lettori e il pubblico dei produttori tendevano sempre più a coincidere, no? A fronte di una deriva stilistica sempre più accentuata e pare ingovernabile. Appunto, nella riedizione del 2004 della fortunata antologia Il pubblico della poesia, edita per la prima volta nel 75 da Berardinelli, appunto, proprio Alfonso Berardinelli scriveva per tutti i 25 anni successivi, in realtà non si è riuscito a capire che cosa fosse diventata la poesia italiana. Quindi addirittura proprio una situazione ingovernabile, un ircoacervo, no? Nel 2005, quando uscì la parola plurale, fu data, quando appunto fu data le stampe questa antologia, si deve anche aggiungere che si era qualche anno prima anche dell'avvento in Italia dei social network. Facebook è sì del 2004, ma sappiamo che in Italia esplode nel 2009, YouTube è nel 2005 proprio. E questi, insomma, l'avvento di tutta la diffusione del web 2.0 ha operato una trasformazione sulla vita sociale delle persone, ma anche quindi nella sociologia letteraria, no? È sotto lo sguardo di tutti che quell'avvento è stato sicuramente all'insegna di una moltiplicazione ulteriore dei luoghi di condivisione della scrittura e della loro, sempre più relativa, deriva gli uni dagli altri. Quindi diciamo che siamo esposti oggi a una condizione di radicale pluralità, come quella che si ribadiva vent'anni fa. Ma a differenza dell'inizio di quel millennio, è per di più finita la breve stagione di entusiasmo per il lit blog. Vi ricordate, no? Nazione indiana del 2003, Carmilla Online del 2000. Ecco, per qualche anno, sì, per un decennio, forse, forse, 15, si è creduto che quelle riviste potessero ricreare un accentramento del dibattito, no? Entro pochi luoghi virtuali, quindi riprodurre quasi una stagione virtuosa delle riviste, no? Ad oggi questa illusione è un po' sparita, insomma, moltiplicano anche i luoghi, anche le riviste. Quindi strabordante pluralità delle scritture, connesse l'una alle altre in uno svariato anarchico pulsante, continuo sottofondo digitale, no? Di riviste, pagine Facebook, profili. Ecco, insomma, la diffusione di Internet, e abbiamo detto il netto predominio della forma di social network, ha creato una sorta di dinamica struttura micelio, entro cui tutto ciò che accade in una poesia contemporanea sembra avere luogo, no? Un groviglio di ife, possiamo dire così. Questa dimensione mediale è stata indicata proprio nei riguardi della letteratura, è approfondita da un critico che stimo molto, che è Alberto Casadei, che nell'ultimo libro, insomma, in cui fa un riassunto sui suoi studi proprio di approfondimento sul campo contemporaneo della letteratura, cioè biologia e letteratura del 2018, parla proprio esplicitamente nell'ultimo capitolo di Epoca della Nuvola, di messa in crisi del testo letterario, no? E parla proprio di una situazione di momentanea giustapposizione di elementi, no? A cui si richiede una significatività immediata, come se la complessità si stia radicalmente trasformando, no? E parla proprio dell'idea del cloud, no? Intesa come l'insieme di tutte le informazioni contemporaneamente in cui siamo immersi. E la letteratura è immersa in questo cloud, vive in questa atmosfera, semiosfera, no? Di esplosioni continue. E in questo panorama, appunto, di frammenti simultanei, il libro di poesia non ha perso del tutto il suo peso. Lo vediamo, tutt'altro. Ma certo vive in una dimensione diversa. Ancora oggi, no? È assai presente nell'immaginario e nella pratica della poesia contemporanea sia il libro come feticcio di vanità, sia come momento di verifica importante di un progetto e di un talento artistico. Qualche anno fa si credeva che i libri fossero spariti, no? Invece si scrivono ancora grandi libri. Si sono scritti grandi capolavori negli ultimi vent'anni e sono stati dei libri, editi in forma cartacea. Ma è innegabile che l'oggetto cartaceo oggi vive in una simbiosi, no? Con le sue n repliche virtuali. L'oggetto solido ha un'altra vita, diciamo così, nebulizzata in una miriade di post, commenti, micro-recensioni, eventi, stories, talk, questo che stiamo facendo, videopromo, letture, conferenze online, eccetera, eccetera. Che, ricordiamolo, sono altrettanti testi. Semioticamente sono altrettanti testi con le loro sintassi peculiari, strategie comunicative, vicari al testo libro, sempre più autonome, sempre più in deriva. Quindi siamo in questo panorama davvero mutato e mutante rispetto a vent'anni fa. Se al tempo era la parola plurale, no? Ecco, allora, dobbiamo dire che di fronte a questa trasformazione la cosa che più stupisce, diciamo così, è la presenza simultanea di un doppio fenomeno, possiamo dire così. Da un lato proliferano le antologie, non hanno smesso di esserci le antologie. Diciamo, si parla anche già nel 2005 di un vero e proprio boom del genere antologico e la cosa è continuata negli anni. C'è un saggio della sempre brava Claudia Crocco, insomma, che ha scritto questo saggio, le antologie di poesia italiana nel ventunesimo secolo ne offre una opportuna disamina, no? Ecco, dall'altro, dobbiamo dire che la forma antologia, però, continuando a prodursi, non è andata incontro a particolari innovazioni. Gode di una, tutto sommato, solida continuità formale. A fronte di una certa varietà di realizzazioni concrete, possiamo dire, insomma, che ancora oggi, nel nostro orizzonte di attesa, comprare un'antologia di poesia oggi significa affidarsi, grosso modo, ad alcuni assi fondamentali, che sono quasi invariati da decenni. Quindi, sia che siano composte, sia che sia composta da un'equip di critici, come la parola plurale, sia sia composta da coppie di poeti critici, come la Cucchi Giovanardi del 2004, oppure da solitari poeti critici, come Enrico Testa, dopo la Lirica del 2005, sempre, essa prevede invariabilmente, l'antologia italiana prevede invariabilmente, un'alternanza di descrizioni critico-bibliografiche, quindi una pagina dedicata all'autore, alla critica di quest'autore, seguita poi da una sequenza di testi rappresentativi dell'autore. Insomma, ancora oggi, a seguito pur delle grandi trasformazioni che abbiamo vissuto, il modello formale dell'antologia si fonda su due assi fondanti, quasi inamovibili, l'autore e i testi, all'interno di una cornice temporale che assai spesso è quella generazionale. Ci sono ovviamente variazioni, ci sono delle antologie tematiche, non ne parleremo, delle antologie di genere, come quella, per esempio, di Giovanna Rosadini, per Enaudi, nuovi poeti 6 del 2012, che raccoglieva solo voci femminili, ma sempre nell'alternanza di introduzione, biografia critica, e poi sequenza di testi. Come dire, mi sembra che, a fronte, ecco, da quello che ho potuto, come dire, vedere, queste due assi rimangono importanti, ed emergono con maggiore, ancora più maggiore forza, se andiamo un po' a vedere, nel dettaglio, ma proprio lo farò rapidamente, due antologie molto diverse fra loro, come Dopo la lirica di Enrico Testa, del 2005, e Poeti degli anni zero, del 2011, di Vincenzo Stuni. Tutte e due, peraltro, si dichiarano, si dichiarano intenzionate a, come dire, espungere dal loro catalogo quei poeti che pongono entro gli angusti confini della mitografia della figura d'autore, quindi vogliono espungere l'eccesso di mitografia dell'autore, però, al di là dei principi avvocati, è il nome dell'autore che fa da guida la scansione delle sezioni, no? Cioè, noi sfogliamo, cerchiamo le poesie di quell'autore e le andiamo a leggere. Addirittura, nell'antologia di Ostuni, che in parte abdica al criterio generazionale, perché dà ascolto ai poeti che hanno avuto più, secondo lui, attenzione dopo l'anno 2000, addirittura fa precedere ogni sezione dedicata sempre ad un autore a un ritratto fotografico che ritrae, appunto, il volto dell'autore, poi dà un suo breve profilo biografico e, alla fine, dopo la scelta dei testi, un brano in cui l'autore stesso racconta la sua poesia e, infine, addirittura un'immagine scelta dall'autore di cui spesso l'autore è lo stesso poeta antologizzato. Quindi, a riprova della saldezza del genere antologia nel nostro orizzonte di ricezione, quindi, perlomeno curioso, che un lavoro antologico dedicato esplicitamente come quello di Ostuni alla poesia di ricerca che storicamente ha fatto vanto dell'eradicazione dell'io dalle forme di scrittura non solo si avvalga di una struttura tradizionale, ma favorisca le strategie di rappresentazione della figura d'autore moltiplicandone gli specchi. Voglio subito precisare una cosa. Quello che sto dicendo non è una critica al lavoro di Ostuni né a quello di testa, sono due antologie pregevolissime di cui io ho fatto un uso ampio e utilissimo. Vorrei soltanto farvi notare come il genere antologia ha una sua stabilità formale, fondata sull'asse della funzione autore che supera i pur diversi propositi che guidano la scelta dei testi presentati. Quindi, sia che l'antologia si ponga come antologia della poesia lirica, come per esempio quella di Piccini, sempre dei stessi anni, sia che intenda raccontare una poesia dopo la lirica, come quella di testa, sia che si ponga come poesia o antologia di una poesia di ricerca, la funzione autore è ciò che scandisce le sezioni variamente coniugate con l'asse cronologico. Ci sono naturalmente delle eccezioni importanti che mi erano molto ispirato. Una è storica, la poesia degli anni 70 di Antonio Porta del 79, che è un andamento analistico, però scansiona solo un decennio, 68-78, e poi c'è un'altra di Alberto Bertoni, 30 anni di 900, sempre del 2005, che è invece un andamento non per autori ma per libri esemplari, sempre per anni. Ecco, quando mi hanno proposto di lavorare al genere dell'antologia, mi sono subito posto il problema della forma, cioè di cercare un approccio diverso al genere dell'antologia, come se fosse un genere letterario. Insomma, mi chiedevo perché non si potesse fare con l'antologia quanto è stato fatto lungo il 900 con per esempio la forma saggio, che ormai è diventata un genere d'arte a sé, sempre più ibridato con la fiction e quasi non più distinguibile, senza fare il nome di Carrère, insomma, è evidente. Di sicuro mi pongo queste domande in quanto non mi sento, non sono un poeta, scusatemi, un critico puro o uno storico della letteratura, ma una forma ibrida, diciamo così, uno scrittore che va incontro alle attività del critico. Ma mi sono chiesto se al di là di queste mie idiosincrasie, e se davvero nel nostro mondo, nel modo in cui fruiamo la poesia contemporanea, la funzione autore fosse così, ancora così importante. E se anche ancora lo fosse, mi chiedevo cosa sarebbe successo se fosse stata disinnescata temporaneamente? Cioè, fare questo esperimento. Insomma, iniziavo a rimuginare una forma di antologia che fosse un esperimento con il genere antologia, ecco, mettiamola così, che andasse certo più incontro al mio estro compositivo poetico più che a quello del critico, ma non sono certo il primo che ha vissuto questa forma ibrida. Insomma, il disinnesco della funzione autoriale per me va di pari passo anche con una possibile nuova emergenza del testo poetico, ovviamente, della testualità della poesia, colta nella sua metamorfosi storica. Immaginate, insomma, un'antologia in cui la funzione autore non fosse più la soluzione di continuità fra una sezione e l'altra e che ci fosse una serie di testi di poesia, magari certo indicando l'autore, ma come dire, che non ci fosse la soglia dell'autorialità a distinguere un poeta dall'altro, che si snodassero dal 71 fino al 2021 senza interruzione o forse con l'interruzione dei singoli decenni. Come se l'urtesto della poesia italiana ad ogni pagina trovasse una dimensione concreta, metamorfosandosi in una forma testo particolare tratta appunto dei libri notevoli editi in quell'anno. Quale effetto poteva dar luogo, quale scarto nella percezione della poesia? Ecco, diciamo che questa forma che ho immaginato non vuole essere in contrasto con la tradizionale forma antologica, ma sicuramente in dialogo, in concomitanza dialogica, ecco, ma mi rendevo conto che questa visione diciamo così mi avrebbe permesso di dare pesi e misure diverse rispetto all'antologia tradizionale, cioè quindi a saper calibrare uno spazio proporzionato a più autori fra loro diversi, quindi rappresentando più una, allargando il numero degli autori coinvolti, aumentando di sicuro la platea rispetto a una antologia tradizionale che deve comunque formare un numero ristretto, diciamo così, canonico di autori. E poi mi rendevo conto che questa antologia, più che rendere conto di una parola plurale, tendeva a rendere conto di una pluralità delle parole che costituiscono il panorama, diciamo così, della poesia contemporanea e degli ultimi 50 anni di poesia. Mi rendevo conto che stavano cambiando le metafore di riferimento, quindi non più la metafora teatrale, la scena nel teatro immaginario della poesia dove pochi volti poetici erano illuminati di volta in volta da un occhio di bue, ma si trattava di provare a rappresentare uno sviluppo geografico, di scrivere un paesaggio in movimento, una molteplicità dialogante di scritture nel tempo, un'antologia di testi e di libri esemplari, più che un catalogo di autori e delle loro gesta librarie. Ovviamente ogni testo non è lasciato da solo, ma inserito nel movimento dei testi, che nella contiguità cronologica dei testi, nella prossimità dei testi a loro contigui che gli sfiorano, gli toccano e li influenzano, eccetera, eccetera. Questa struttura mi avrebbe dato la possibilità anche di dare ragione di qualcosa che ho imparato profondamente da autore, da scrittore di poesia, ovvero che è difficile considerare i massimi, i grandi autori e poi i minori, no? I minori è spesso un'espressione che nasce proprio da come prodotto di una certa canonizzazione di un'epoca, quindi da una certa modalità di approccio all'antologia. I minori spesso fanno grandi libri, contribuiscono in maniera incredibile a svoltare dei decenni, a volte i minori sono tali per destino, per brevità di vita, per brevità dell'opera, per tante ragioni. Ecco, in un atteggiamento, diciamo così, in un approccio antologico che riducesse la funzione autoriale, si poteva dare spazio anche a queste testualità che solitamente in un'antologia per autori vengono escluse. Penso a Piero Bigoggiari, a Tirio Lolini, Roberto Roversi, ma anche Luigi Di Ruscio, autori che oggi sembrano molto potenti ai nostri occhi, ma per vite, destini e sorti sono stati messi ai margini dalle antologizzazioni degli anni precedenti. Ecco, è ovvio che il tempo emergeva con grande forza nel mio lavoro antologico, in questa visione dell'antologia. E allora mi sembrava a questo punto coraggioso poter provare a fare anche un passo oltre. Cioè, visto che appunto disinnescando il criterio autoriale si generavano delle possibilità, avrei optato anche per tentare di disinnescare il criterio generazionale, che è un altro tipico criterio dell'antologia, no? Qual'effetto darebbe un lettore poter scorrere sotto i propri occhi i testi più influenti di un'epoca nel nastro della cronologia, non escludendo però i più anziani dai più giovani, il contatto fra queste due generazioni, fra le generazioni degli scrittori. È ovvio che il criterio generazionale ha degli indubbi vantaggi, evidente che serve per descrivere, circoscrivere una temperie e un clima comune, no? Ma dà anche dei grandi svantaggi, delle grandi distorsioni, si sottolineano le novità degli autori e noi gli elementi di continuità degli autori che sono altrettanto importanti in una visione storica, in una visione artistica anche vorrei dire, Cioè le influenze reciproche continuano fra le generazioni. Proprio poi sentiremo parlare, no? Valeria Cristalli di Milo De Angelis. Ecco, somiglianze nel 76, se isolato ci appare sicuramente radicalmente nuovo e lo era, e lo era sicuramente. ma se facciamo notare al lettore che nel 71 uscì su Fondamenta Invisibili di Mario Luzzi, se si legge Antimateria del 72 di Piero Bigongiari e Franco Fortini questo muro del 73, vediamo che quella lingua di Milo viene da un certo sfondo, da un certo contesto poetico. Stessa cosa per Giuliano Mesa schedario del 78, che esce nello stesso anno di Postkarten di Sanguinetti e del Galateo in Bosco di Zanzotto. Cosa genera questa vicinanza? Ci sono delle prossimità linguistiche che emergono. Per venire più vicini a noi, nel 2004 per esempio esce Endogloss di Marco Giovenale e Armi e Mestieri di Giampiero Nieri, due autori diversissimi per formazione per gruppi che, eppure sulla pagina qualche cosa, questi due maestri della lacuna e della costruzione obliqua guarda caso trovano delle affinità, no? della affinità che emergono come dire da una visione che disinneschi l'autore, il gruppo e la generazione, no? E posso fare altri esempi di cui non posso adesso dilungarmi. Avviandomi verso la conclusione insomma volevo sintetizzare un po' alcuni vantaggi diciamo così che ha questa visione e alcuni svantaggi così da offrirli un po' alla discussione. Beh, innanzitutto i vantaggi sono riporta in circolo tanti testi che sono di difficile reperibilità. insomma è un elemento importante. Poi lo sguardo diacronico 71-2021 mostra meglio le filiazioni reciproche fra le scritture e i contatti, no? Eh, enfatizza meglio l'intorno del testo dando rilievo anche agli esiti divergenti contemporanei. quindi fa vedere ancora di più la ricchezza del panorama e del paesaggio poetico italiano, no? Riesce a dar conto delle rare aves dei libri rari particolari che magari hanno un effetto ma non rientrano mai nel genere antologico e non dà per scontata la continuità autoriale. Ci sono degli autori magari non tutti i libri sono così notevoli avere il coraggio di antologizzarne solo uno o due di nomi magari anche molto famosi oggi che però di cui si riconosce l'importanza solo di alcune opere non di tutta la lunga carriera che hanno fatto. Ci sono ovviamente degli svantaggi dei rischi delle distorsioni il primo è ovvio l'enorme numero di testi la difficoltà è quella di manovrare la quantità. Scusi, Romano se ti interrompo si spegnere e riaccendere la telecamera che ti sei bloccato ah ok ok disattivo e riattivo ecco spero si veda ancora qualche istante bene la difficoltà dicevo di scansione dei periodi presi in considerazione perché il decennio in fondo bisogna capire come dividere questo flusso tutto da ripensare è difficoltà di rappresentare la sintesi sul percorso di un autore chiaramente un autore disseminato nei suoi libri quindi non è più coeso e questo sicuramente dà un svantaggio e poi soprattutto forse il più grave la mancanza di istruzioni di lettura ogni autore certo nell'introduzione si può scrivere tante belle cose ovviamente aiutare il lettore a percorrere questo fiume questo flusso però certo ogni testualità necessita un'introduzione che forse in questa mia visione non sarà adeguatamente rappresentata ecco però volevo chiudere con una riflessione proprio un minuto e mezzo perdonatemi cosa significa leggere un testo di poesia nel senso che un'antologia di poesia deve per forza illustrare una tesi deve per forza ridurre i testi che antologizza ad una sua tesi questo per me è stato anche un difetto penso a quella di Franco Fortini del 77 straordinario Fortini intellettuale però a volte la tesi pesa sui testi e uno compra le antologie più per leggere il saggio dell'introduttore che i testi da leggere questo è un problema forse dando più spazio ai testi rendendo dando non più autonomia ai testi ma rendendo maggior conto dell'anarchia testuale forse c'è una capacità di preservare il dialogo con i testi in maniera più più irrisolta ma forse anche più libera e di far lasciare il testo e incontrare il lettore come un volto come un individuo e sarebbero in questo caso nella mia utopia diciamo così l'intorno cronologico dei testi a fornire quasi il supporto ermeneutico per accedere alla soglia di quel testo ecco spero questo progetto di creare questa musica questa musica di contorno che porti ogni testo a essere se stesso senza essere schiacciato troppo da interpretazioni diciamo così antologizzanti mi fermo qui e scusate per lo sforamento di qualche minuto grazie ancora grazie a te per averci reso partecipi di questo tuo progetto in corso che a questo punto siamo veramente curiosi di vedere insomma di vedere pubblicato quindi aspettiamo anche perché appunto si preannuncia veramente interessante io come al solito avrei una serie di domande però darei la precedenza al pubblico per cui se ci sono domande o questioni ecco Carlo apri pure il microfono la telecamera come vuoi insomma ecco grazie grazie Tommaso hai detto molte cose ce ne sarebbe da parlare per giorni perché sull'antologia credo che ci siano svariati problemi che tu chiaramente hai cercato di condensare vorrei inizio a dire che c'è un'antologia che non è proprio un'antologia poetica però si chiama La poesia degli alberi è un librone contiene centinaia e centinaia di testi Tommaso l'hai presente? è uscito proprio pochi giorni fa non l'ho pochi mesi mai Mino Petazzini sì sì non ce l'ho ancora sì è un è un libro chiaramente settoriale di genere ecco parla degli alberi e delle specie arbore ed anche di qualche altra pianta che a me interessa appunto perché mi interessano le piante e c'è un'infilata di testi uno dietro l'altro sono categorizzati invece di essere categorizzati per decenni sono categorizzati per specie arbore ecco ma ci sono veramente centinaia e centinaia di testi e di svariati autori e non ci sono capelli introduttivi sulle poesie chiaramente sugli alberi sì insomma si dice il faggio è fatto così la betulla bla 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 eccetera l'antologia secondo me ha sempre gode di una di una cattiva fama per quanto ci siano delle ottime delle prestigiose antologie perché in Italia risulta sempre qualcosa di molto scolastico e non riusciamo mai a toglierci di mente che la lettura è prima di essere qualcosa di scolastico è qualcosa che sta a sé ecco e credo che la fortuna o la disfortuna del genere come tu l'hai elencato Tommaso cioè che non si scosta da determinati canoni risulti dalla grande dalla grandissima enorme fortuna che ha avuto Mengaldo nel 78 perché quella ha fatto scuola e perché ha fatto scuola perché racchiude in qualche modo il 900 a cui noi siamo ancora purtroppo ancora attaccati noi facciamo abbiamo difficoltà a capire che siamo nel 2020 per le arti intendo per il nostro contesto noi ci sentiamo non solo noi che siamo qui ma la società in generale stiamo vivendo nel passato noi abbiamo un grande problema con il tempo dobbiamo iniziare a fare un po' di conti e poi questi cappelli introduttivi spesso essendo cappelli introduttivi devono essere striminziti e spesso sono dei saggetti espressi e chi può capirli questi saggetti espressi su magari formule spesso per i poeti o per altri critici e da qui appunto c'è un altro problema appunto che la poesia risulta sempre più per poeti e per gli specialisti per gli addetti ai lavori cosa che è un po' stride pensando che la poesia originariamente era per tutti era canto e a me questo un po' un po' dispiace e trovo giusto il lavoro che spero che tu stia portando a compimento di ridare a centralità la parola poetica e che poi il lettore ci dobbiamo pensare che anche il lettore anche il lettore è uno specialista non credo che sia così in genere non penso bisogna sempre portarlo per mano poi il lettore prenderà quello quello che capita e quello che riesce a capire non deve per forza ogni lettore capire tutto deve essere in grado anche di scoprire da sé qualcosa questo credo che sia la funzione anche della letteratura se dopo resta affascinato da quel qualcosa che coglie può chiaramente andare a cercare altrove ulteriori informazioni e poi se ti ricordi di quest'ultima cosa e dopo chiudo questo mio piccolo intervento ne accennavamo anche quando sei venuto qui a Udina all'università c'è un problema con l'autorealità e credo che in Italia abbiamo il problema dell'autoritas cioè nell'antologia anche quelle più recenti non riusciamo a toglierci dalle scatole determinati autori che è giusto che ci siano intendiamoci adesso uso parole un po' sprezzanti ma è corretto che ci siano però non riusciamo a farne a meno che occupano tre quarti di un'antologia e per cui sembra ancora sempre che siamo ancora le soglie del 2000 e ancora nella fine nel calante 900 e anche sugli autori poeti maggiori e minori o giovani era di questo che parlavamo in quell'incontro a Udine io non tollero molto tanto questa cosa perché quando un poeta è minore oppure ha scritto qualcosa ma non è un gran poeta riconosciuto è un poeta giovane come se fosse una categoria a me non va bene perché un poeta si definisce il momento in cui scrive poesie buono giuste che siano sarà il tempo poi a far calare la scure o a setacciare i testi per cui sì c'è anche questo tipo di problema secondo me dell'autoritas che sembra che è una cosa medievale ma alla quale soggiacciamo perché appunto non riusciamo a non inserire poeti nuovi non chiamiamoli giovani non chiamiamoli minori perché a me viene in mente ortesta che è un paeta magnifico è strepitoso a me fa ghiacciare tutto mi fa venire i brividi eppure non è mai entologizzato è entologizzato pochissimo o se ne parla poco ma ortesta è magnifico quando usa come usa il linguaggio e la sintassi e a me appunto è una cosa che mi fa andare un po' in veste appunto che non ci sia oppure che venga considerato un minore minore rispetto a cosa? chiaramente rispetto all'autoritas imperversante è ancora novecentesca dalla quale non riusciamo a slegarci ho messo tante cose sul fuoco ma mi premeva mi premeva dirle come spunto ulteriore alla tua riflessione e che mi ha mostrato posso fare una breve risposta molto breve risposta a Carlo ti ringrazio tutto del credito come dire di fiducia che tutti voi mi state dando e davvero vi ringrazio molto ecco voglio dire una cosa non penso un'antologia comunque ingenua l'antologia è sempre un gesto critico è chiaro nella scelta e anche nell'introduzione che avrà la sua vastità e spero nella mia intenzione argomentare anche entrare nel dettaglio dei testi seguendo questo flusso però io credo che Carlo ci abbia detto una cosa che a me interessa ecco il problema dell'autoritas dell'autoritates insomma si coniuga col prima generazionale e forse disinnescandolo con questa provocazione forse un po' esagerata però a volte credo che certe provocazioni permettano anche di vedere le cose da un'altra parte di vedere delle cose diversamente e già questo forse assolverebbe al suo scopo come dire ci aiuta se io inizio a non ragionare più con l'autore e che quindi devo antologizzare tutto il suo cammino artistico ma solo quei libri e anzi di più quei testi che secondo me hanno davvero centrato il cuore di alcune questioni artistiche formali di un'epoca bene allora io mi libero di tanti libri non so come dire di tante cose che posso anche togliere perché in fondo già confermate nel libro precedente ecco possiamo dire così quindi certi libri forse possono essere fatti cadere e lasciando spazio per scritture più giovani appunto però ecco mi interessa uno dei punti fondamentali che ha mosso a me questa idea è incontrare tante fare i laboratori di poesia parlare di poesia con autori di generazioni più giovani di me e mi rendo conto che c'è io citavo tanti autori che non erano introvabili non erano conosciuti non erano letti e mi serviva uno strumento per rendere conto proprio del paesaggio della pluralità delle opzioni per uscire da quella visione appunto veterocanonica di poche grandi teste e poi basta rendere il paesaggio più selvatico più irto più più selvaggio in maniera che ognuno possa davvero trovare la sua scrittura e vedere come io già immagino l'effetto dal 71 al 2001 la lingua della poesia si sia trasformata immaginate questo flusso che scorre e far passare come si è modificata questa pluralità di testi come ha traghettato la lingua forse un giorno parleremo che Cosimortesta non è importante però è quel testo di Cosimortesta che ci ha dato qualcosa ecco questa è un po' la visione che avevo grazie forse l'antologia come strumento è forse una delle definizioni più centrate per definire che genere letterario non so allora se ci sono altri interventi o altre domande se avete delle riflessioni altrimenti avrei comunque una curiosità su te come poeta quanto senti questo gesto critico diciamo anche la tua identità come poeta quanto rientra nella scelta dei testi e così via questo ti ringrazio Giulia di questa domanda sarò anche qui breve ma è un tema molto bello in effetti l'idea iniziale è proprio quella di un libro di libri quindi di fare qualcosa che io faccio già con me nel senso che quando compongo i miei libri di poesia io non penso ai miei testi come i miei penso a dei testi che trovo di qualcun altro che sono stati scritti e quindi li scarto li butto e li scelgo come se fossero di qualcun altro quindi in qualche modo in effetti questo approccio al genere antologico chiamiamola ancora antologia se questa parola non dispiace possiamo anche chiamarla cronologia se offende meno l'impressione dei lettori ecco a me viene proprio dall'idea compositiva che io ho del libro e dell'idea del libro è come di comporre una serie di frammenti che non sono miei quindi l'idea di questa antologia è comporre un grande libro di frammenti non miei quasi un mio libro diciamo così che è un percorso di scelta attraverso i testi degli altri un libro di molti libri diciamo così in qualche modo c'è ovviamente la presenza fondativa dell'autore in quanto selettore della materia però in qualche modo spero di fornire come dire testi che secondo me hanno un attraversamento particolare nella lingua di oggi quindi anche questo mi interessa non un'antologia museale che racconta gli anni 70 ma racconta quello che degli anni 70 ci può servire adesso ecco possiamo dire così quindi un'antologia che io immagino possa essere usata come strumento di lavoro per un poeta del 2032 per un poeta del 2025 ecco l'antologia che avrei voluto avere io insomma ecco se vuoi e che non ho avuto e ho dovuto fare i miei di fotocopie in cui pensate che quando ho iniziato a scrivere Fortini le poesie di Fortini erano introvabili le ho dovute fotocopiare cioè insomma c'è stato la penura dei testi è un problema anche per i scrittori ecco non solo per per i critici non so se ho risposto del tutto Giulia potevo andare avanti sì grazie mille è un discorso lungo è un discorso che viene affrontato in modo diverso anche dai diversi poeti che hanno realizzato l'antologia li citavi prima alcuni e allora io invito appunto le persone a intervenire non so Stefano forse volevi intervenire tu io sì io ovviamente vorrei avrei tante domande però come al solito lascerò qualche secondo aspettando che le mani si alzino però come al solito non riesco a a sostenere questo silenzio quindi intanto ti ringrazio per questo intervento estremamente interessante che veramente ci fa sperare non so in qualcosa di di nuovo qualcosa di di non visto e apprezzo moltissimo l'ampiezza cronologica e anche l'idea di scardinare questa appunto il focus dall'autore e ovviamente come diceva Carlo il problema generazionale e no come dicevi tu forse rispondendo a Carlo il problema generazionale è ovviamente legato all'autoritas scardinando anche quello effettivamente potrebbe esserci il problema di dover inserire dover inserire persone che solo con criteri generazionali possono essere escluse però tutto questo si rifà al criterio di rappresentatività dell'antologia e cosa che in realtà nel genere antologia che tu vuoi creare può essere effettivamente aggirato nel senso che se si se si considera l'antologia non l'Italia in miniatura allora si può scrivere la propria diciamo si crea una una narrazione e questa può e appunto è come fosse insomma se continuiamo in questa metafora è come un romanzo è una storia e ha valore in quel senso e sotto questo punto di vista secondo me è un'antologia estremamente interessante però appunto è la tua antologia però che si appunto ho visto anche che hai utilizzato il termine urtext che in qualche modo riporta a questa quest'idea di rappresentatività all'idea di un testo ideale che però è diciamo a cui tutti gli altri puntano o comunque da cui tutti gli altri discendono cioè c'è qualche frattura in quell'archetipo che poi si tramanda a chi viene dopo anche se chi viene dopo poi non vuole ereditare questa frattura non ho un'opinione al riguardo trovo che la prospettiva sia estremamente feconda e molto interessante nella poi nel momento che viene incorporata in un in un libro e però se il mio dubbio è in tutto questo l'idea di poesia oggi può soffrire molto a causa della frammentazione dei testi questa è una cosa di cui io sono fortemente convinto nel momento in cui la poesia è esclusivamente diciamo comincia e finisce nel singolo componimento allora stiamo ci stiamo focalizzando su un tipo di poesia che diciamo che dà al lettore in cui il lettore può trovare solo o cerca solo una soddisfazione immediata diciamo a breve termine e perde fondamentalmente l'idea di libro e l'idea di contesto ovviamente l'antologia deve fare i conti con questa cosa cioè estrapolare e rendere frammento testi che sono che hanno una loro storia hanno un loro contesto si può fare questa cosa e come come affronteresti questa questo problema devo rispondere Stefano grazie la domanda molto molto ampia e ci porterebbe molto lontano davvero molto interessante grazie perché mi aiuta a capire meglio delle cose sicuramente la narrazione italiana della poesia la mia narrazione della poesia è una cosa molto bella è una cosa che volevo fare questo flusso è il mio flusso è il mio racconto è il mio percorso è il mio libro detto prima è il libro dei libri è il mio se volete il mio terzo libro di poesia diciamo così possiamo dirla così un po' un po' provocatoriamente senza però ovviamente fare finta che non sia anche un gesto di restituzione di un patrimonio ecco agli altri hai colto perfettamente la parola urtext io l'ho detta ma mi sono morso la lingua è un errore perché sono darwiniano sono copernicano non sono più tolemaico questo urtext come gli archetipi non esistono non c'è nessun ur c'è semplicemente un continuo variare delle differenze la mia idea era proprio quella di far vedere questo slittamento mediante il lavoro di prossimità e di continuità fra i testi quindi non c'è nessuna idea di testo alle spalle che voglio che voglio manifestare capito nell'antologia non c'è un testo ideale di cui io voglio far vedere il cammino come se fosse una fenomenologia dello spirito poetico via ecco no però hai detto bene questa cosa come la si risolve nel rapporto con il contesto io prima ti ho detto lo strumento l'antologia per me è un strumento che nasce da questa esigenza di dialogo di portare in giro un'idea di poesia questa io mi immagino che una volta prodotta questo libro beh di questo libro bisogna iniziare a fare qualcosa ecco è in quel modo che io mi aspetto che la poesia inizi a giocare con la dimensione del contemporaneo sociale bisogna fare dei laboratori bisogna fare degli incontri andare a incontrare il poeta antologizzato come ti senti rappresentato come vivi questa rappresentazione cioè provare a trasformare l'antologia in un strumento che si muova nei vari contesti e che provochi delle situazioni discorsive ermeneutiche e che possano appunto far parte non del testo perché nel testo non farebbero mai parte ma della vita di quel testo ecco allora veramente l'antologia come strumento anche di promozione non di un'idea di poesia ma delle testualità della poesia ecco di dialogo fra le testualità della poesia che io credo che far vedere vicino tante tante idee di testo differenti possa in qualche modo possa in qualche modo fornire occasioni di lavoro vogliamo lavorare su un anno si può prendere tutte le poesie del 78 e farci un lavoro una conferenza un dialogo vuoi fare non so tutti i libri usciti nel 71 nell'81 nel 91 e nel 2001 vedere che cosa è successo i libri che escono nel 2000 hanno tutti un mondo proprio sono particolarissimi quei libri c'è stata un'impennata di pubblicazioni perché quindi anche quello può essere tutta una sorta di occasioni generate da questo tipo di lavoro e io spero con queste occasioni in qualche modo di uscire dal testo come dicevi tu e da quel piacere sterile immediato del testo a cui anch'io io non credo prima infatti ho detto l'autonomia del testo niente autonomo diciamo così solo un dio medievale può essere autonomo tutto è relazionale e quindi l'antologia può essere un strumento di relazioni ecco questo al massimo può diventare o meglio è la migliore speranza che posso avere grazie mille mi fa venire veramente voglia di leggere appunto questo questi testi è questa inseriti in una nuova narrativa che effettivamente solo insomma ognuno si crea per sé però è interessante vedere anche quella degli altri ti ringrazio appunto se non ci sono se non ci sono altri interventi ti ringrazio per l'ultima volta e passerei data ormai avanzata a Valeria Cristaldi giusto volevo volevo dirti Tommaso che è stato molto interessante e mi ha colpito molto l'idea originale appunto sì di disinnescare il criterio autoriale ma anche di non schiacciare i testi perché in questo modo secondo me si sollecita la libertà del lettore e il lettore può co-creare il testo come diceva Lerì può essere anziché leggerlo sterilmente con l'idea già preposta dell'autore del saggio invece poter fare una sua libera lettura poter essere co-creatore dei testi e lasciare questa libertà secondo me è molto interessante altrimenti leggiamo sempre i testi con i pregiudizi magari più belli che possono dare un aiuto però come se abbiamo già l'idea in testa prepista e non abbiamo la libertà di fare una propria lettura infatti ti ringrazio Valeria quantomeno separare con dignità i due momenti c'è il momento critico poi uno se lo legge però c'è il momento anche in cui il testo vive con i suoi consanguinei e dialogano fra loro questo dialogo mi sembra molto interessante cosa fanno i testi da soli quando li lasciamo soli e dialogano fra loro insomma osservare questo loro movimento di prossimità può essere molto libero per il lettore insomma ti ringrazio Valeria prego bene allora io ti presento Valeria Cristaldi ha insegnato lingua e letteratura italiana civiltà e storia d'Italia presso l'université Paris Nanterre e l'université Paris Créteil ha ottenuto in particolare i corsi Etude Texte Atelier Langue Orale Ecrite Italian Institutions Pouvoir e Vie Politica in Italie e svolge le sue ricerche presso l'université Paris Nanterre su Ada Negri e il rapporto con la Francia sul carteggio inedito tra la poetessa italiana e alcuni scrittori e critici francesi tra i quali Alfred Mortier e Camille Malarny si è occupata del confronto tra la critica italiana e quella francese nella ricezione della scrittrice della Iehe di Ada Negri della scrittura autobiografica nelle donne e della questione meridionale italiana ha seguito e guidato degli atelier di scrittura e poesia a Parigi e a Catania e oggi ci parla della parola precisa in incontri agguati di Milo De Angelis grazie mille grazie Giulia e Stefano per l'organizzazione ma anche per l'enorme dedizione che avete messo su questo convegno e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando e che stanno partecipando faccio partire il mio powerpoint quindi ditemi se vedete lo vedete? sì perfetto dunque vorrei analizzare il rapporto tra parola poetica e ispirazione in Milo De Angelis alla luce del confronto con Maurice Blanchot e René Char in questa cornice propongo una lettura della raccolta incontri agguati la poesia di De Angelis è caratterizzata da una ricerca rigorosa di precisione la parola poetica è un tiro rischioso all'angolo della porta frutto di una severa preparazione atletica non è una precisione tranquilla quella di chi traccia sul foglio la figura geometrica prestabilita la perfeziona con il righello nella calma di una scrivenia è una precisione ardua che deve essere mantenuta nel pieno della tempesta una responsabilità improrogabile questione di vita o di morte il poeta è al buio in mezzo a una tempesta è circondato dal pericolo eppure deve essere preciso controllare i remi gonfiare il salvagente deve scrivere la parola precisa altrimenti in autraga ogni parola deve essere indispensabile unica fondamentale e ineluttabile la poesia di De Angelis è uno spazio che ospita e il poeta deve essere capace di ascoltare accogliere riportare con precisione la parola di chi viene ospitato ma dove si trovano le parole? secondo De Angelis non sono nel vocabolario le parole esistono nelle cose che noi interpelliamo affinché si esprimano è proprio lì che respirano la parola si annida in zone oscure che convocano il poeta e a lui spetta il compito di trovarla rivelarla tradurla tradurre extraducere vuol dire proprio condurre fuori permettere la sua nascita l'ingresso della parola nel tempo umano De Angelis quando scrive dà la sua parola al lettore come dice lui stesso sempre sentito fin da bambino la ricchezza dell'espressione dare la parola ha molti significati affidare a chi legge la nostra parola consentire a qualcuno di parlare dare una garanzia di verità fare una promessa che si deve mantenere la parola poetica è dunque una parola non ritrattabile una parola d'onore la parola poetica in De Angelis è il tentativo di raggiungere una voce originaria voce che non si percepisce nitidamente nella sua prima manifestazione De Angelis è un appassionato studioso della mantica greca fa spesso riferimento a Delphi alle parole oscure di un oracolo la parola poetica deve essere riportata precisa e fedele all'oracolo e come afferma lui stesso in un'intervista De Angelis continua a credere nell'ispirazione c'è qualcosa di fortemente impositivo nello scrivere quasi una dettatura come se il poeta tendesse l'orecchio e dovesse solo ascoltare la parola giunge da un luogo prossimo e remoto allo stesso tempo e il poeta ne sente il richiamo si avvicina per sentirla è una voce che parla per accenni e brandelli come la sibilla che spinge verso una verità un approdo di potente chiarezza le parole di De Angelis vengono da zone buie da luoghi volti dimenticati feriti i quali chiedono di trovare una forma si rivolgono al poeta solo a lui lo scuotono lo spingono verso il foglio e questa è l'ispirazione il poeta scrive ciò che gli si detta e se non ascolta con millimetrica finezza non scrive la parola precisa luoghi e volti tornano a scuoterlo ogni luogo ogni volta ha una sua voce e il poeta deve riconoscerla essere affilato nell'ascolto è letterale fino allo spasimo è come se il poeta dovesse riportare svelare una notizia preziosa infrangibile senza sgualcirla ora la poesia di De Angelis non è l'espressione del sapere di chi la scrive il poeta non scrive ciò che già sa comincia a conoscere scrivendo la parola è qualcosa che è più grande di lui l'ispirazione è legata allo svelamento in Maurice Blanchot a cui De Angelis si richiama e si ispira è una passione illimitata che fornisce all'artista l'accesso a tutto e gli svela tutto l'ispirazione la scrittura non fa altro che dare forma all'esigenza iniziale della poesia scrive Blanchot nell'espace littéraire il poeta ispirato assume il colore delle cose su cui si posa è il compagno segreto il fratello silenzioso di ogni cosa il cambiamento dei colori è per lui un intimo tormento perché egli soffre per ogni cosa nel contempo ne gioisce nel poeta tutto deve e vuole incontrarsi l'unica legge a cui deve obbedire la seguente non impedire a nulla l'accesso alla sua anima non è che il poeta secondo Blanchot si esprima sempre pensando a tutte le cose del mondo sono loro che pensano a lui e gli parlano le sue depressioni i suoi smarrimenti sono quasi stati impersonali quanto più l'ispirazione pura tanto più colui che entra nello spazio in cui essa lo attrae laddove senti il richiamo più vicino alla parola originale si trova privato di ogni sua risorsa la sovrabbondanza che sperimenta la fonte è anche un'estrema povertà l'opera sembra chiedere all'artista di cercare l'origine di luoghi e cose egli vi si dedica alla luce del sole cerca di esprimerla interamente l'artista capisce scrivendo cosa vuole dire non lo sa prima l'opera è dunque allo stesso tempo un cammino verso l'ispirazione ma la scrittura di De Angelis pur rispondendo a una dettatura non è mai automatica cortili portoni strade convocano il poeta il richiamo è subito irresistibile ma l'inizio è oscuro così per scrivere una poesia egli ha bisogno di numerose prove e tentativi numerose forme di ritorno il ritorno ha il carattere di una lente ripetuta esplorazione e la parola poetica è come una strada una faccia che convoca incessantemente a sé il poeta attende che egli la svela anche secondo René Char autore caro a De Angelis il poeta ha un cuore troppo preciso per il suo compito percepisce una musica insurdina e questo gli provoca una sorta di felicità l'udito fine del poeta interviene sente una musica lontana sono le parole che attraggono il poeta egli le sottopone a un primo e un secondo esame una forza lo solleva gli fa il dono di parole difficili ma familiari come se fossero state già scritte altrove la scrittura di una poesia nasce dall'ascolto di una voce ma è al tempo stesso un lavoro preciso del poeta che deve stare attento a riportare fedelmente ciò che sente l'intuizione del poeta sostiene René Char gli detta degli ordini e fa vibrare forme embrionali di poesia passando però attraverso alte gabbie les autres cages attraverso un percorso pieno di ostacoli come dice anche De Angelis parlando della sua poesia anche secondo René Char la poesia convoca il poeta ma non si lascia facilmente afferrare all'inizio quando chiama il poeta la parola è oscura indescrivibile allora comincia una capricciosa battaglia piena di astuzie tra il poeta e la parola prends moi prends moi ma tu n'y par viendra pas la parola dice al poeta prendimi prendimi ma non ci riuscirai e quando finalmente il poeta cattura la parola fa l'esperienza dell'ebbrezza come De Angelis René Char individua la somiglianza tra la poesia e la galera per il poeta francese la poesia è un'evasione e al tempo stesso una evasione forzata una prigione forzata è un'evasione con la sicurezza che questa evasione alla fine riesca sempre ora appunto De Angelis ha insegnato per anni nel carcere di opera nella periferia sud di Milano quindi al primo giorno ha avvertito la somiglianza tra la poesia e quel luogo la poesia come una cella carceraria è uno spazio minimo dove tutto deve restare al suo posto e basta cambiare un aggettivo perché crolli un'intera costruzione bisogna disporre le cose con il massimo della cautela perché si tratta sia per la poesia sia per il carcere di un luogo sorvegliato altamente sorvegliato il carcere per De Angelis è un luogo poetico di esilio e di memoria redenzione desideri fondamentali ridotti all'essenziale anche i poeti sono come i detenuti in attesa di giudizio dentro il perimetro del testo c'è infatti come un verdetto della parola che pende su di loro le parole della poesia hanno infatti in De Angelis sempre il peso della necessità il poeta dovrà rispondere di ciò che scrive sarà giudicato davanti a un tribunale subirà una sentenza per le parole scritte chi si trova in carcere da tanti anni ha bisogno di verità non effimere non contingenti non televisive e ha bisogno della poesia della parola che rimane è come se dalla riuscita di quella poesia dipendesse il destino del mondo perché in carcere c'è qualcosa di diverso c'è l'anima dei detenuti il loro tentativo di credere nuovamente in se stessi quello che va insegnati lì è un amore per la vita attraverso la poesia è allora che la parola poetica diviene una responsabilità assoluta il poeta ha un compito urgente e la parola poetica è una missione tra condanne pesanti ed ergastoli un insegnante avverte che in carcere la propria parola ha un peso maggiore deve essere pensata e ripensata può essere l'unica e ultima occasione per i detenuti di riconquistare di riconquistare un amore per la vita per cui non si può sbagliare in poesia anche René Char lo sosteneva la poesia che va sui piedi rosi sui piedi cauri non si lasse riduire nulla quindi il poeta si distingue per la quantità di pagine insignificanti che non scrive la parola ha un potere chiave dell'universo del cosmo secondo Gaston Bachelard come osserva nella poetica dello spazio arrivando venendo appunto a incontri agguati e la raccolta come sappiamo presenta tre sezioni distinte fra loro e la prima sezione è stata a lungo guerra di trincea è stata a lungo preparata e architettata è il frutto di un lavoro di officina che mi ha ricordato lo scontro di cui parla René Char la parola che non si lascia facilmente afferrare e genera una battaglia con il poeta l'abbiamo detto prima guerra di trincea parla di uno scontro con la morte che può allo stesso tempo essere visto come un duello con la parola la lotta del poeta perché la parola precisa si lascia finalmente afferrare che possiamo confrontare con la caprisante bataille di cui parla René Char per la seconda sezione De Angelis si ispira a Blanchot come lui stesso dice questa seconda sezione infatti non è un lavoro di officina come la prima ma sembra sgorgare come frutto di un'ispirazione improvvisa un poeta non scrive ciò che già sta ma è la parola svelarielo a volte non è in grado di raggiungere il poeta stesso la conoscenza che emana dai suoi versi perché essa è più grande di lui nella scrittura l'autore viene strappato da sé lasciando spazio alla parola in questa seconda sezione anime ferite vecchi compagni di strada o di scuola luoghi e corpi già incontrati emergono dalla memoria la sfondano per entrare nel presente e si rivolgono al poeta lo scuotono gli chiedono di restituire loro il vero nome la vera voce che lui li riconosca l'ultima parte di incontri agguati è quella di ambientazione carceraria è stata fecondata dall'esperienza di insegnamento di De Angelis nel carcere di opera ed è un esperimento nuovo anche qui la parola si svincola dal jeu dell'autore per usare le parole di Blanchot e viene immessa tra le mura del carcere e l'autore introduce il lettore nella sezione ponendo in esergo come sappiamo tutti un verso centrale di Oscar Wilde dalla ballata del carcere di Reading ognuno uccide ciò che ama ma anche alcune frasi di un compito in classe di un detenuto Franco De Angelis infatti riconosce che nell'ultima sezione dà la parola a Franco il detenuto dopo aver tasciuto per lunghissimo tempo in un compito in classe ha svelato ha raccontato il suo crimine al professore il suo crimine aver ucciso appunto la cosa più amata come dice Oscar Wilde e aver ucciso la donna di cui era innamorato la sua compagna e alla fine del libro grazie alla parola poetica la sorridente che la donna uccisa dal detenuto ritrova il respiro e la vita si aggira tra i corridoi del carcere entra nelle cellule dei detenuti e la sorridente come è stato detto a incarnare la vittoria sulla morte ora la raccolta in Contriagguati presenta quindi tre parti ben distinte tra loro la prima che ho confrontato con la Caprisante Bataille di René Chard la seconda con Maurice Blanchot e la terza appunto è la sezione autonoma in cui la parola viene strappata dall'io dell'autore e gettata tra le mura del carcere però ho riconosciuto una coesione un collante fondamentale che è dato dalla parola precisa la sola è in grado di sfidare la morte infatti vengo velocemente ai testi quando il poeta si rivolge di volta in volta alla morte al figlio ai vecchi compagni di strada o alla moglie del detenuto sembra sempre interpellare ambivalentemente la parola poetica per cui la sorridente che appara all'inizio e alla fine del libro pagina 18 pagina 65 eccetera è una donna ma è anche la parola il poeta scava nella miniera per cercarla per riportarla intatta è il primo errore è quello del detenuto ma è anche quello del poeta quando ha paura di non riportare la parola precisa la paura antica di sbagliare la traduzione in una poesia interviene la morte e parla al poeta Sarai una sillaba senza luce la morte vuole minacciare la vita del poeta ma intende intimidirlo anche riguardo la riuscita della sua poesia che sarà incapace di esprimere la parola precisa sarai la crepa stessa delle tue frati l'unica voce che non si rigenera morendo è tipico di De Angelis l'uso del futuro come con riconosce anche Daniele Piccini l'isola sarà guardata nella sua bellezza ricorre il futuro in queste frasi sibilline taglienti De Angelis fa sempre riferimento all'ispirazione il poeta fruga la morte in tutto il corpo così come fruga la parola ascolto un oracolo come abbiamo visto prima questa è l'ispirazione una voce che lo richiama gli detta parole a cui obbedire con rigore estremo però all'inizio l'oracolo non si percepisce nitidamente il poeta non sente non capivo le parole all'inizio è oscuro e De Angelis usa la parola mormorio in quel mormorio che richiama assolutamente Maurice Blanchot l'origine della parola n'è ancora che mormor la parola obbedisce quindi a un mormorio che si avvicina all'essenza della poesia nella seconda sezione abbiamo visto il poeta si rivolge ad alcune figure che hanno incrociato in diversi momenti la sua vita ma allo stesso tempo sembra sempre interpellare la parola poetica De Angelis scruta e sente il figlio ma anche la parola che accade ritmicamente arrestando la danza delle sillabe l'immagine della vena qui è la vena dell'universo è molto usata da De Angelis abbraccia diversi mondi come riconosce Gabriele Afantato può essere la vena dell'universo come può essere la vena di un tossico di una tossica la ragazza con la gonna azzurra è la vena di un malato ricordo in tema dell'addio che trovare la vena dava il titolo a un'intera sezione e ricorreva la parola ossessivamente ognuno chiede dove è la vena presto la vena non si trova la vena Dio mio non si trova che appunto è la vena di una malata ma è anche la vena dell'ispirazione poetica quindi De Angelis rimanda sempre metaforicamente all'ispirazione all'atto della scrittura il sangue che tuona tra i pensieri è quello di Mario sdraiato tra i macchinari del respiro ma è anche quello del poeta che cerca la parola e può sciogliere ogni groviglio il poeta ha un compito estremamente difficile quando scrive e scrivere una poesia è come colpire con una freccia un asino d'uva e condurlo intatto dall'altro lato della piscina non restare in silenzio non restare neanche per un attimo per scherzo per sfida è una frase rivolta a un compagno di scuola in una poesia che rievoca le interrogazioni ai voti ma sembra allo stesso tempo una supplica al poeta infatti tutte le figure che incontra lo implorano di non restare in silenzio di dire quella parola precisa in grado di riconoscerli di liberarli così il calciatore numero 8 che tirò preciso a fil di palo è un compagno di squadra di De Angelis ma è anche metafora del poeta che cerca rigorosamente la parola precisa l'anima vagante che percepisce un richiamo improvviso a Chiaravalle è un compagno di De Angelis ma è anche il poeta infatti i luoghi amati come dicevamo lo reclamano e gli sento un richiamo lì dovevo andare tutte le persone i fiori le montagne lo invocano perché lui dia loro battesimo e anche quando il poeta parla di Viviana l'ho perduta ritrovata risorta e poi finita e culminante si riferisce ambivalentemente alla parola poetica che gli smarrisce e conquista così come il poeta ricerca l'opera che è la poesia ed è anche il nome del carcere dove De Angelis insegna opera sei dappertutto ma non so dove sei non ho molto tempo visto i 20 minuti quindi vengo alla fine del libro come ho detto prima la parola precisa è capace di far ritornare nel presente il minuto del crimine e ha il potere di riportare in vita la sorridente la donna accoltellata che riprende fiato grazie alla poesia grazie a quella strofa primitiva dove le lettere del nome amato ritornano per sempre e lei si aggira come un oltraggio alla morte quindi la parola è in grado di sfidare e vincere la morte e come diceva René Char le poesie sono dei pezzi di esistenza incorruttibile e incorrotta che il poeta lancia al muso ripugnante della morte e la poesia è l'unico segno di un trionfo dalla morte materiale e ora quasi c'è tanto da discutere perché De Angelis appunto afferma in un'intervista che a volte la poesia è il simbolo di qualcosa d'altro che ha la sapienza l'unica che ha la sapienza per dialogare con la morte e niente poi appunto è un lavoro che sto facendo sto cominciando a fare anche nell'ultimissima raccolta linea intera linea spezzata questa insistenza sulla voce che richiama il poeta sull'esigenza di dare alla notte la sua edizione più precisa quindi questo continuo riferimento ambivalente all'ispirazione e alla parola precisa però appunto non ho qui il tempo di approfondire su linea intera linea spezzata e niente vi ringrazio vi ringrazio grazie a te Valeria posso dire di aver capito un po' meglio il mio De Angelis oggi mi sembra estremamente interessante vedere come la fine appunto uno dei più grandi poeti italiani di oggi in realtà abbia ancora dei forti legami con quella che è l'origine della lirica italiana se vogliamo perché appunto l'ispirazione è descritta appunto della dittatura insomma rimanda a così come l'opera che viene cacciata e non si riesce mai a raggiungere insomma sono reminiscenze fortemente tantesche e niente invito chi insomma i partecipanti a alzare la mano e intervenire direttamente sono sicuro che appunto ci siano tante ecco per esempio Ilaria Giacometti prego poi apri il microfono e prenderò sì salve buonasera mi sentite sì intanto grazie Valeria di questo intervento molto interessante molto ricco e io mi è venuta una domanda che si riaggancia proprio a questa idea della dettatura dell'ispirazione come dettatura cioè prima hai detto che il poeta deve solo ascoltare deve solo deve ricevere la parola di un oracolo della Sibilla che è come se scrivesse sotto dettatura che deve obbedire a questa dettatura e anche che la parola ha il peso della necessità dall'altro lato però la poesia per Milo De Angelis è un'officina quindi c'è l'idea del lavoro mi chiedevo quindi qual è questo che che dimensione ha questo lavoro del poeta e in che cosa consiste la sua scelta nel trovare la parola precisa se appunto la parola ha il peso della necessità grazie grazie è una domanda super interessante infatti è una delle domande che mi sono sempre posta allora andando con ordine infatti io ho fatto emergere questo dialogo nelle due sezioni la prima sezione guerra di trincea è presentata da Milo De Angelis stesso in un'intervista come un lavoro d'officina e la seconda come sgorga come un'ispirazione improvvisa quindi sono due strade due lavori che convergono in De Angelis lui stesso lo dice la prima è nata da un intenso lavoro d'officina che soste attende la seconda sgorga lui dice usa proprio questo verbo come un'ispirazione improvvisa quindi sono due metodi che che coesistono in lui però quello che io ho osservato dopo aver letto anche Maurice Blanchot è che ho accennato nella mia presentazione che però appunto la scrittura non è mai non mi sembra mai automatica in De Angelis perché in cosa consiste questo lavorio è vero che lui ascolta una voce e questo oracolo sono proprio i volti e i luoghi che richiamano il poeta incessantemente ma lui usa poi termini anche molto concreti il poeta è chiamato dal camion dal lavandino dal cortile dal portone dalla strada quindi i volti e luoghi lo chiamano però all'inizio questa voce oscura infatti come faceva notare anche in una poesia non capivo le parole per cui non è mai una scrittura automatica che subito capisce quello che gli viene dettato tra virgolette e scrive c'è sempre un lavoro innanzitutto per il fatto che all'inizio questa voce oscura infatti lo stesso De Angelis in un'intervista dice che lui doveva ritornare tante volte anche se sono i luoghi che lo convocano ma lui ritornava tante volte prima di capire e in poesia e destino parla delle varianti quindi c'è chi appunto ha cominciato anche uno studio della variante perché all'inizio lui non scrive mai questa parola precisa bisogno di ritornarci più volte perché sia fedele all'oracolo fedele alla voce del luogo e del volto amato però è una cosa molto interessante perché quindi non è mai automatica c'è il lavoro all'inizio oscura questa voce quindi il poeta fa anche un lavoro proprio di correzione ci sono le varianti e infatti lui parla del ritorno c'è una lente ripetuta esplorazione un ritorno nei luoghi amati per riascoltare e riportare fedelmente la loro voce però c'è anche una cosa molto interessante poi cerco di essere brevi una cosa interessante perché tu hai parlato di scelta Ilaria e in effetti mi sono chiesta anch'io perché da una parte De Angelis dice in che cos'è la poesia che la parola precisa c'è una sola via una sola via obbligata dall'altra fa spesso riferimento al tragico e dice sempre che appunto lui prende spunto dal tragico fa riferimento per esempio al mito di Figenia e dice il mito di Figenia c'è un padre che vuole uccidere la figlia in nome della stirpe la madre che vuole salvarla in nome del valore della vita e De Angelis dice sono tutte e due delle vie ragionevoli e giuste diche contro diche entrambi avevano ragione e quindi una scelta porta anche la sanguinosa il peso sanguinoso della strada altrettanto giusta che non hai percorso e quindi è una cosa molto interessante perché da una parte è una sola la via obbligata dall'altra c'è il tragico e questo diche contro diche quindi ci sono due scelte entrambe giuste e uno quando ne prende una ne esclude un'altra che era altrettanto ragionevole altrettanto giusta quindi è proprio anche io mi sono chiesta che peso ha la scelta non parlo più perché serve da parlare in realtà quattro ore però appunto è molto interessante perché secondo me alla fine c'è una scelta come dice lui stesso che ne esclude un'altra grazie grazie Valeria c'è qualcun altro che vuole intervenire vi invito a farlo senza senza problemi se no appunto io patricia prego sì 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 buonasera prima di tutto io mi sono sentita un po' obbligata a intervenire visto che anch'io parlerò di d'angelis tra qualche settimana per questo motivo vorrei intervenire un pochino prima di tutto per quanto riguarda questo lavoro dell'officina questo lavoro sui varianti un tentativo di avvicinarsi a questa voce che sta di fondo che sta nei luoghi è giustissimo ma è anche giustissimo per tutta la sua produzione letteraria non tanto per gli incontri guati però secondo me io lo percepisco un po' in questo modo che per quanto riguarda proprio questa raccolta che è già la penultima raccolta ci entra anche una questione di fare i conti un po' con il passato questo suo lavoro di officina è molto più consapevole anche direi rispetto alle raccolte precedenti qua in qualche modo si mescola da una parte una vena più narrativa anche direi rispetto anche a quella andarsi nel buio dei cortini ma dall'altra parte c'è una incredibile solennità dell'indica sillabo a fare anche quindi anche lo stesso titolo di incontri agguati da una parte c'è questa dimensione dell'angguato cioè siamo noi sottoposti alla parola e l'autore che non ha la scelta che deve obbedire in qualche modo ma dall'altra parte l'incontro può essere anche voluto e qua c'entra un po' questa dimensione di un approccio più consapevole rispetto alle raccolte precedenti e sì e forse anche potresti intervenire tu e dirmi in che modo invece tu percepisci la precisione della parola di questa raccolta rispetto alla sua produzione soprattutto precedente che è la linea interna spezzata e ancora un altro discorso direi quindi secondo te la precisione della parola è diversa in queste raccolte rispetto alle raccolte precedenti o si parla sempre dell'ispirazione sì mi ha zittisco no sono sono assolutamente d'accordo che ci sia un cambiamento e infatti ti lascerò approfondire questo tema è tutta una parte che ho dovuto levare anche perché è tutta una parte in cui parlavo appunto del titolo no perché incontri agguati sono d'accordissimo infatti ti lascerò per approfondire questo tema però sono d'accordo c'è una dimensione nuova in questa raccolta rispetto alle precedenti proprio perché c'è questa esigenza cioè è come se il passato esatto come dicevi tu si fanno i compiti del passato e il passato buca il presente sfonda il presente per cui l'autore esatto c'è un incontro con la parola e c'è un agguato anche se è molto sottile si potrebbe stare a parlare mi farebbe tantissimo piacere per ore perché anche qui De Angelis per esempio distingue tra l'agguato del dolore ma anche l'agguato della gioia quindi dice lui stesso l'agguato non è per forza doloroso c'è anche un agguato della gioia che è un'improvvisa corrispondenza sono d'accordo col fatto che in questa raccolta ha un peso diverso perché è un tentativo sì esatto di fare i conti col passato e soprattutto di far ritornare il passato nel presente per cui è una una precisione che che intende sì fare i conti col passato ma soprattutto far ritornare continuamente il passato nel presente cioè modificando il presente bucando il presente sfondando il presente sì anche attraverso la figura dell'io visto che anche il dialogo viene in qualche modo esteriorizzato qua appare questo quest'altro personaggio in qualche modo che interviene proprio in quanto un riflesso del passato come dici tu è proprio entra in un rapporto con il presente sì giustissimo grazie grazie io vi volevo leggere anche la domanda di Andrea buongiorno perché in realtà ho toccato un punto che volevo toccare anche io e dice scavo minuziose nella parola per giungere all'origine quanto c'è di un garettiano nell'orfismo di De Angelis e già un mio aggancio perché ovviamente un garetti viene subito alla memoria e a me veniva non soltanto per questo scavo della parola ma anche volevo chiederti di approfondire in questi minuti che rimangono il tema della notte perché pensavo all'opposizione che c'è in un garetti tra luce e buio che corrisponde a ispirazione poetica e afasia tra parola poetica e mancanza invece della parola e quindi volevo chiederti se c'era insomma anche qualche rimando a questo tipo di un garetti insieme ovviamente se puoi rispondere ad Andrea grazie allora senz'altro lo approfondirò però sì anche perché De Angelis cita proprio un garetti in un'intervista riguardo questa raccolta e parla proprio del porto sepolto lui dice per me pure c'è un porto sepolto da raggiungere una meta e qui la poesia tende riguardo sì la dinamica notte-giorno e quindi afasia-parola sono d'accordissimo tra l'altro era invece un tema che io avevo approfondito confrontando invece a Blanchot che parla della notte dell'esilio e tra l'altro proprio in quella poesia che non ho avuto il tempo di approfondire è la notte che riporta al detenuto proprio la notte che riporta al detenuto la paura del primo errore è la paura di di non di sbagliare la traduzione la paura antica di sbagliare la traduzione quindi senz'altro trovo che ci sia questo collegamento come dicevi tu un rapporto parola afasia notte-giorno e secondo me è da collegare anche al tema dell'esilio c'è proprio un incrocio di notte esilio afasia-parola è anche silenzio perché vabbè dovrei parlare per anni e anni è anche silenzio perché appunto la notte è collegata al silenzio e il silenzio mi sono chiesta spesso perché De Angelis dice sempre che il silenzio non è l'opposto della parola ma invece proprio il momento cioè la parola è come già lì attende la sua nascita è solamente l'attesa della parola dall'altra proprio in questa poesia in cui fa riferimento alla notte parla del veleno che si insinua ad ogni silenzio quindi come se non ci fosse invece la possibilità di restare in silenzio non restare in silenzio neanche per un attimo per scherzo per sfida dice un'altra poesia quindi sono tutte tematiche che si incrociano come dici tu il tema ungarettiano affasia parola notte parola luce e anche il silenzio io farei corrispondere alla notte ma il silenzio però qui visto in questa raccolta ho notato un cambiamento come paura di sbagliare la traduzione in realtà qui il tema della notte è anche molto legato al tema dell'esilio però appunto avrei bisogno di un sacchissimo di tempo però appunto tu è tutta una strada anche il tema della traduzione è interessante da seguire sì se posso io ho ancora una parola per quanto riguarda la notte io direi che più che l'orfismo e soprattutto Blanchot è il tema dell'altra notte cioè una notte che non è mai dopo tutto presente c'è sempre di fronte a noi e poi subito alle nostre spalle in De Angelis si sente tantissimo questo aspetto anche nell'ultima raccolta cioè la notte c'è e sembra essere ovunque in qualche modo ma dopo tutto la notte vera e propria questo punto dell'altra notte non avviene perché è impossibile è di fronte a noi oppure subito alle nostre spalle quindi in quanto un punto irraggiungibile in qualche modo è ma sempre presente sì mi fermo qua che dopo tutto sono io che ho cominciato a intervenire sì grazie grazie mille non so Valeria se vuoi rispondere a tua volta o se ci sono altre domande comunque potete continuare a parlare non è che sempre no insomma io sono contento che ci sia appunto ci siano persone esperte che vogliono partecipare Monica sì buonasera no ho solamente una curiosità veramente rapida no mi aveva colpito Valeria quello che dicevi che riportavi una citazione di De Angelis le parole esistono nelle cose che noi interpelliamo affinché si esprimano ecco siccome ovviamente il rapporto tra parola e cosa nella poesia è estremamente interessante ricco va a partire dal libro della Genesi in cui appunto Adamo dà il nome alle cose ecco volevo capire semplicemente da dove era stata tratta cioè se è un'intervista se è dal volume delle interviste solo questo sì sì è dal volume delle interviste non sono d'accordo rimanda veramente origini antichissime i volumi delle interviste sono due la parola data e colloqui sulla poesia consiglio veramente di leggerlo sono d'accordissimo ha origini veramente molto antiche infatti è una cosa tant'è vero che lui stesso De Angelis per esempio parla di battesimo le parole sono nelle cose e le cose poi i volti i luoghi chiedono al poeta battesimo quindi sono molto d'accordo che c'è un influsso della Genesi un influsso del cristianesimo anche se il poeta in questa cosa è molto delicato dice appunto che è un un po' la scuola che ha fatto che ha lasciato queste tracce in lui anche se lui non vuole avere nessun legame con con il cristianesimo però anche a me ha colpito tantissimo questo aspetto perché mi ha riportato anche qui all'entretien fini di Maurice Blanchot e per esempio al rapporto tra le parole del linguaggio quindi le parole del vocabolario le parole del linguaggio comune e la parola poetica che è sotto le parole del linguaggio per esempio c'è una poesia di Incontri Aguati che non ho letto che dice cercatemi cercatemi sotto le parole e appunto è un'anima ferita che dice queste cose al poeta ma io ho visto anche un riferimento della parola poetica che si rivolge al poeta che dice cercami sotto le parole del linguaggio comune per cui è molto interessante per esempio Blanchot fa notare che la parola poetica si distingue dalla parola del linguaggio comune non è quella del vocabolario è quella delle cose perché rende più giustizia alle cose ai volti e ai luoghi cioè diceva Proust appunto in poesia un'ora non è un'ora ma è un volto colmo di profumi e di baci per esempio però tutto anche qui potremmo proprio stare ora a parlare anche del rapporto tra il linguaggio comune e il linguaggio poetico c'è la grammatilicalizzazione dello scarto c'è Mengaldo che per esempio fa riferimento in come la poesia a questo rapporto ma tantissimo oppure Casa Dei il volume di Casa Dei sull'ispirazione è molto interessante da questo punto di vista andiamo a tempo è come se il linguaggio poetico rendesse Dav è capace di dare battesimo alle cose e rispetto al linguaggio comune Dav rende più giustizia delle cose dice molto di più però ecco non basta io mi fermo ho parlato anche tanto ma per venire beh in questo consesso di De Angelisiani mi ci metto un po' ecco per cui mi fa piacere moltissimo fare una domanda proprio a tutti voi a questo punto è interessante questa cosa che non avevo mai pensato insomma quindi grazie all'intervento di Valeria è stato detto con chiarezza quasi come se per Milo De Angelis la poesia rappresentasse quasi un crimine quindi che attrae attrae con l'impulso della seduzione tutto l'erotica della produzione poetica di De Angelis che è molto forte come sapete ma al contempo è un crimine che porta inequivocabilmente al carcere alla colpa questa tematica di quella colpa di cui dicevi bene tu Valeria e pensavo a quanto fosse diversa l'impostazione per esempio il poeta come un criminale in certo modo la poesia la scrittura come crimine come gesto colpevole di cessione di un piacere immenso a quella che però poi rende subito a terra costringe alla gabbia al carcere quanto invece fosse diverso per Sereni che aveva l'idea del soldato invece poeta tutto il dialogo col suo mondo etico della guerra in cui le cose si fanno per dovere come se davvero fra Sereni e Milo ci fosse un ingresso di una pulsionalità che nella poesia italiana prima di quella data non era così messa davanti a tutti nella scrittura mi domando se poteva concordare con quello che tu hai raccontato in questa sede sì sono molto d'accordo è vero che questo elemento della pulsionalità sono sono estremamente d'accordo e non lo so a me ha molto in realtà scosso questa cosa del tribunale anche Fortini parlava del tribunale delle parole per esempio non so se vi ricordo anche Fortini fa molto riferimento a questa cosa del tribunale delle parole lui diceva proprio ci sarà il giorno del giudizio per il poeta sarà giudicato sulla parola poi De Angelis fa un riferimento un po' meno cristiano però quindi oltre a Sereni anche Fortini aggiungerei in questo in questo confronto perché lui è stato il primo che parlava del tribunale delle parole e non lo so è un'idea che a me ha molto ha molto non so in realtà l'ho percepita negativamente all'inizio poi come dici tu c'è questa pulsionalità che è molto importante che è originale che che assolutamente è da valorizzare però era una questa idea del tribunale delle parole era una cosa che non so in me generava all'inizio un sì l'ho capito invece bene con De Angelis perché lui spiega perché anche rispetto a Fortini perché in carcere c'è un'esigenza molto concreta e lì ho capito bene cosa voleva dire cioè lì ho amato questo tribunale delle parole di cui parlano Fortini e De Angelis perché in carcere è come se ci fosse fosse l'ultima e unica occasione appunto come dicevo perché i detenuti amino la vita non hanno altra possibilità che amare la vita attraverso la poesia no? è l'unica forma di vita visibile no? come dice De Angelis che loro hanno perché possono solamente ricordare non sono in esilio i detenuti possono ricordare la giovinezza di Frutteti però hanno bisogno di quella parola lì e per cui per questo il tribunale delle parole in questo senso non si può sbagliare in questo senso come diceva René Chac non si possono scrivere pagine insignificanti come diceva Fortini in questo senso c'è un giorno del giudizio o c'è un soldato lì lo capisco di più in quel contesto lo capisco bene perché capisco concretamente in che senso i detenuti in un ambiente come il carcere visto che De Angelis insegnava in un carcere ci fosse un'esigenza urgente infatti lì ho capito meglio anche il problema della parola precisa o della necessità perché detto così anche queste frasi sibilline taglienti sono un attimo risultano come un po' pesanti all'inizio morirai invaso dalle domande risultano quasi un po' sì c'è appunto tutta la questione di Euripide del tragico greco antico che De Angelis ama molto però contestualizzando nell'ambiente del carcere lì ho capito cioè lì ho amato ho imparato ad amare questo tribunale delle parole di cui parla ad esempio anche Fortini o come dici tu valorizzerò anche questo elemento della pulsionalità ti ringrazio perché per esempio non era una cosa che avevo tirato fuori se posso inserirmi su questa in questo punto solico del giudizio a me interessano appunto gli universali della poesia e mi sembra che ne abbiamo tirati fuori parecchi però appunto riprendendo vari capi del tuo discorso cioè però partendo appunto da questo da questa da questo giudizio finale dal fatto che la parola del poeta è parola d'onore quindi diciamo la parola l'importanza di quello che si dice e quello che non si dice perché poi si verrà giudicati si rifanno cioè rimandano a una a una dimensione molto pubblica della dell'atto poetico che non è normale non è non è scontato nel senso che che insomma l'atto poetico come atto privato è ugualmente diciamo diffuso come come stereotipo della dell'attività del poeta e su questa è una una prima domanda fondamentalmente ho una richiesta di osservazioni ma soprattutto appunto volevo riprendere anche questo il fatto che tu parli di oracoli di ispirazione diciamo sibillina delphica che si rifanno ha una una visione fondamentalmente ascensionale o addirittura o discensionale se vogliamo appunto la parola viene dall'alto ma viene anche scavata da da una miniera in qualche modo e quindi e questo scavare della miniera è assimilato alla fatica della traduzione quindi queste parole vengono estrapolate e diciamo portate al mondo secondo secondo un principio di traduzione o comunque un'interpretazione da una lingua sconosciuta ultramondana e questa cosa mi interessa moltissimo perché se stiamo facendo appunto e questo non è per tirare ancora in ballo la cristianità dell'autore che ovviamente se lo vuole scrollare di dosso ma io considero Sant'Agostino non appunto solo un un autore cristiano ma una persona che ha avuto un autore che ha avuto un'estrema influenza nella letteratura e nella cultura occidentale quindi è secondo me appunto va preso come punto di riferimento io vedo lì la fondazione di questo pensiero perché lui nella dottrina cristiana Agostino parla di scavare nei classici diciamo nelle miniere della divina provvidenza il messaggio divino adesso noi decristianizziamo questa cosa e fondamentalmente attraverso l'allegoria che è semplicemente un atto di un atto interpretativo di qualcosa che c'è in qualcosa di nuovo si può vedere quest'atto di traduzione è ovvio che anche in quel campo la traduzione e la traduzione corretta è fondamentale perché come in questo caso c'è la dannazione e la salvezza in ballo e così il giudizio di cui parla De Angelis è alla fine quello a cui il poeta dovrà essere sottoposto quindi insomma mi sembra interessante vederlo sotto una prospettiva appunto mi ripeto universale più ampia del poeta stesso per quanto De Angelis sia centrale non so se ovviamente non era una domanda più un ripetere i vari pensieri che che mi sono venuto in mente durante questa interessantissima questo interessantissimo intervento non so a questo punto ti chiedo semplicemente la pregnanza secondo te ha un senso questa questo questo ragionamento oppure oppure no più francamente ma dici il ragionamento il tuo? sì appunto sì sì dico il mio ma dico semplicemente guardare riassumendo tutto guardare questo ragionamento di questa quest'idea di o almeno questa narrazione dell'idea di Angelis in una prospettiva universale sì sono d'accordissimo sono anche d'accordissimo all'inizio prima di parlare di tutto questo avevi detto anche una cosa molto interessante del rapporto tra privato e pubblico no? se non mi sbaglio avevi fatto questo riferimento all'inizio e dicevi appunto di solito la poesia è stata sempre regata nella sfera del privato invece qui ha una dimensione pubblica dicevi questo giusto? sì pubblica dall'inizio esatto sì 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 sono molto d'accordo è molto interessante invece quindi lo volevo valorizzare anche se l'hai detto all'inizio e poi sei passato a Sant'Agostino e poi sono d'accordo anche su tutta questa riflessione che hai fatto e sono sicura in realtà anche io che ci sia un impulso di Sant'Agostino in De Angelis anche se poi appunto quando nell'intervista appunto De Angelis dice appunto magari è stata l'influsso della mia scuola da cui io sono scappato questo Gonzaga di Milano da cui io sono scappato che non ha alcun cioè sicuramente il cristianesimo non gli interessa però assolutamente c'è questa dimensione c'è questa dimensione dell'allegoria c'è questa dimensione della traduzione tant'è vero che ed è molto interessante come dicevi infatti è una delle prime cose che ho detto nell'intervento era per esempio scavare nell'etimologia del verbo tradurre anche perché De Angelis è stato anche traduttore dalle lingue straniere è stato traduttore vabbè dei classici è stato traduttore dal francese è stato un grande traduttore della lingua straniera e quindi volevo proprio andare a fondo su però cosa vuol dire tradurre che è invece che vuol dire tirare fuori il poeta ha questo compito di tirare fuori di rivelare ma già la parola rivelazione ha molto di di Sant'Agostino comunque detto questo volevo scavare appunto sull'etimologia di tradurre proprio perché vedevo interessante questo questo rapporto e anche il fatto che De Angelis per esempio in un'intervista dice che si sofferma su quest'altro del tradurre non solo il tradurre dalla lingua straniera ma sul tradurre come riportare riportare la voce dei luoghi riportare la parola precisa e per esempio fa degli esempi molto belli per cui vi invito a leggerli per esempio fa l'esempio dell'ospitalità greco-antica che è anche quella siciliana perché io vengo appunto anche da Catania quindi la valorizzo e per esempio lui dice bisogna per poter tradurre tradurre da una lingua straniera ma tradurre cioè rivelare svelare se vogliamo usare invece una parola a un verbo di blancho e non cristiano bisogna per esempio dimorare per giorni e giorni nella dimora del poeta che si vuole tradurre nel caso della traduzione dalla lingua straniera ma appunto dimorare nel luogo di cui si vuole riportare la voce o dimorare nell'incontro col volto di cui si vuole riportare la voce occorrono giorni e giorni lui dice per conoscerne i profumi per conoscerne le abitudini per così come lui dice come occorrono anni e anni ci può essere anche quella traduzione che invece è estemporanea in quel luogo hai subito l'intuizione di qualcosa da rivelare però grazie perché mi hai dato tantissimi spunti per fare un ulteriore lavoro su questa roba qui molto interessante grazie grazie un'ultima riflessione poi mi azzittisco e aspetto il mio turno per quanto riguarda la seconda riflessione legata al Sant'Agostino io sono d'accordo ma soprattutto se non solo per quanto riguarda la sua riflessione teoretica cioè le interviste eccetera ciò che dice in generale De'Angeli sì certo sono d'accordissimo per quanto riguarda la sua poesia vera e propria molto di meno cioè il suo lavoro poetico è molto più orizzontale anche un lavoro lavoro prima di tutto il lavoro lavoro sui sensi minaccia lavoro sui sensi è non tanto solo una rivelazione di qualcosa che sta sopra in qualche modo questo è giusto ma perché quando leggiamo le sue interviste sì si sente soprattutto questo aspetto rivelatorio come se la verità ci fosse solo una ma poi quando ci avviciniamo siamo stretti al testo il discorso è un po' un po' diverso ma forse solo la mia visione sono d'accordissimo sono d'accordissimo tra l'altro è quello che dicevo prima che avevo già detto perché lui dice una sola è la via obbligata ma poi non è quello che io direi leggendo i suoi testi hai detto benissimo e anzi direi proprio che c'è invece una scelta che una scelta ne esclude un'altra che non è semplicemente infatti quello che ho sottolineato è che appunto sicuramente non si tratta mai di una scrittura automatica e c'è una dimensione altro che orizzontale nei suoi testi anzi io avrei anche approfondito la questione della scelta che era quella che domandava Ilaria all'inizio per cui confrontandosi nei suoi testi assolutamente non è una rivelazione dall'alto anzi io direi proprio infatti è quello che ho detto nella mia presentazione confrontando confrontando con Blanchot anzi se tu leggi una poesia di De Angelis hai proprio l'impressione come diceva lui e come diceva soprattutto Blanchot che il poeta non scrive quello che sa o quello la voce che gli si rivela ma c'è un lavorio non solo sulla parola c'è un lavoro di officina sulla parola eccetera ma anche quando il poeta ha già scritto c'è un lavoro che continua io ho questa impressione leggendo i suoi testi c'è un lavoro che continua sì è questo perché è come se le poesie i versi dicessero anche sempre molto di più di quello non solo che lui sente dall'oracolo ma quello di cui lui ha intenzione eccetera non è l'espressione di quello che sa o di quello che gli viene rivelato appena c'è sempre una conoscenza che deve essere approfondita anche quando lui ha già scritto la sua poesia Valeria ti va di tornare due minuti proprio su questo concetto della scelta perché mi aveva interessato tantissimo visto che l'hai citato ma proprio in chiusura se ti va di dire qualcosa in più sì a me aveva interessato proprio tanto anche a me quindi sono d'accordo perché mi chiedevo appunto come si conciliassero questa quest'unica via di cui lui parla nell'intervista e poi come diceva Patricia leggendo i testi è tutta un'altra cosa è la dinamica proprio della scelta se poi ci fosse una scelta dell'autore una scelta del poeta rispetto rispetto alla parola non solo da scrivere ma anche poi da da cancellare nelle correzioni per esempio perché è un lavoro che lui fa e non lo so io quello che ribadisco ribadisco una cosa che ho già detto però per me secondo me questa dimensione della scelta c'è tant'è vero che lui fa sempre riferimento al tragico all'esclusione di un'altra via che era altrettanto giusta quindi non direi vero che lui in cos'è la poesia dice che c'è un'unica via immobile una sola è la via obbligata invece io penso che nelle sue poesie lui alla fine sia di fronte ad una scelta una scelta anche che può essere appunto lascio la parola a Franco come fa nella poesia numero 15 della terza sezione per cui lascia le parole al detenuto una scelta che anche questa è una scelta svincolare la parola dal proprio però ecco non so tu cosa volevi aggiungere no no ti chiedo quindi secondo te la via è obbligata no secondo me no cioè la cosa che lui dice in che cos'è la poesia magari è una cosa che lui crede veramente però secondo me no cioè leggendo i testi direi assolutamente no c'è sempre una scelta tant'è vero che lui stesso parla di responsabilità c'è una responsabilità c'è il tribunale delle parole c'è una responsabilità di fronte ai carcerati soprattutto perché può essere l'ultima occasione dell'unica ultima occasione della vita perché loro si riappassionino a qualcosa credano di nuovo in se stessi e quindi se c'è la responsabilità c'è una scelta grazie sono d'accordo con te avevo la stessa impressione avevo la stessa impressione rispetto insomma dopo averti ascoltato così a lungo bene sono sono le otto che dici Stefano chiudiamo non ci sono altre domande infetti pesanti beh abbiamo dimostrato che riusciamo a parlare due ore anche con due relatori la considero un successo grazie infinito perché veramente entrambi avete fatto margere un dibattito delle discussioni dei concetti interessantissimi e straordinari quindi Stefano sto dicendo scusami no sono niente ringrazio ancora i nostri direttori Valeria Cristaldi e Tommaso Dizio ringrazio tutti voi che siete rimasti fino all'ultimo e tutti quelli che hanno partecipato e vi do appuntamento alla settimana prossima con Pietro Polverini e Davide Castiglione una buona buona serata a tutti grazie arrivederci e buona Pasqua ciao grazie ancora a tutti ciao davvero grazie mille grazie Tommaso poi voglio sono curiosissima sul tuo progetto quindi certo certo uscirà uscirà abbiate fede a proposito di Agostino ci saranno grazie a tutti